Ah, vediamo un attimo i nuovi oggetti. Cosa faranno a provare la Drakhtar? Questa ti sarà la nuova Drakhtar. Le statistiche sono le stesse. Addia, le tali di abilità, benissimo. Anche la passiva mitica. Cambia, Night Stalker. Te la dico prima, ascoltami. Quella che è adesso, cioè prima, è la seguente. La prima volta che colpisce un nemico con un'abilità o un attacco base, gli fa un danno extra. Bene. Dopo va in cooldown e lo puoi usare dopo un totto una decina di secondi, no? A meno che non uccidi qualcuno. Se uccidi qualcuno, puoi rifare questo danno subito. Se si resetta il cooldown di questo danno in più. E potrai richillare qualcuno, cioè potrai rifare questo danno su qualcuno. E inoltre diventi pure invisibile, ok? Quindi se uccidi uno, puoi rifare il danno extra e diventi invisibile. Uccidi un altro, poi il danno extra diventi invisibile. Uccidi un altro, poi il danno extra diventi invisibile. Paf, facilissimo far penta così. Infatti era la build con cui ho fatto la maggior parte di penta. Cioè 70-80% del build ho fatto penta. Adesso quella nuova. Invece che questo danno extra, non ci sarà più questo danno extra. Lo tolgono. E quindi non si resetta se fai una kill. E tolgono pure l'invisibilità. Al posto dell'invisibilità, quando uccidi un nemico entro 3 secondi, l'ultima volta che l'hai colpito, diventi intargettabile. Come quando Fitz fa la E che va sul tridente e non puoi intargettarlo. Per 1,5 secondi. Le strutture possono comunque targettarti. Quindi non puoi derivare questa roba. E ha 10 secondi di cooldown. Quindi non puoi farlo a spam. Cioè tu uccidi 1, se uccidi subito un altro non diventi non intargettabile. No, devi aspettare 10 secondi. Quindi uccidi 1, poi dopo 10 secondi se uccidi 1 lo puoi tornare non intargettabile. Quindi è una merda. Non c'è l'effetto valanga che è uno dietro l'altro. Inoltre le tue abilità fanno un danno addizionale del 15% in base alla vita mancante del nemico. Meno vita, più danno fai. Se è uno a 100% di vita danno addizionale 0. Se è uno a 50% di vita, boh immagino 7,5. Ok? O 10, non lo so. Quando finisce forse al 30%, non ho idea. Su chi è molto forte questa nuova Drac'tar? Ovviamente sugli assassini a D. Ad esempio. Ad esempio Zed. Zed prende la kill. No, Zed fa la ulti. Fa tutta la combo. Il nemico rimane con metà vita meno. 30%, 20% di vita. Questo danno addizionale è al massimo. La ulti, che già fa tanto danno perché è stata caricata dall'altra abilità, esplode facendo ancora 15 precedenti extra. Nemico, kaput. E poi Zed diventa pure intergettabile. Quindi riesce anche a salvarsi e a uscire, diciamo, indenne dal fight, dalla situazione, dalla brutta cosa. Quindi perfetto. Però non sarà più utile sui campioni dell'esplode build. Perché? Perché non puoi più buildarla insieme all'infinity. Che era quella la forza. Era Drac'tar più infinity la combo dell'esplode build divertente e forte. Ok? Fatti l'infinity. È un mitico. Non puoi buildare due mitici insieme. La cosa che tutti quanti noi stiamo sperando, io in primis proprio più di tutti, spero anche voi, spero che qualcuno magari se ne sia reso conto, che rimuovano questi oggetti mitici. E che permettano ai giocatori, come un tempo, di buildare tutto quello che volevano. Un tempo addirittura si potevano buildare più volte gli stessi item. Non che servisse a molto. Però c'era, si poteva fare un'opzione in più. Magari uno voleva due volte un infinity, magari uno voleva sei infinity per trollare. Poteva benissimo farlo. Ha solo rischio e pericolo. Ovviamente questa cosa non è più possibile. Io spero che li rimuovano, perché gli oggetti mitici sono molto una limitazione. Non poter buildare due oggetti mitici. Ok? Hanno degli effetti molto forti. Benissimo. Allora li rendiamo meno forti, però rendiamo tutto quanto il lanciato, tutto quanto che si può buildare. Sarebbe divertente. Facevi due bt con un colpo di full vita. Esatto. Una bella build full lifesteal. Adesso per fare una build full lifesteal devi comprare oggetti che magari fanno schifo. Il mondo del troll, il mondo del fan, del divertimento su LOL sta sempre andando meno. Cioè la RIT sta cercando sempre di normalizzare tutto. Una volta c'erano delle cose sbilanciatissime. C'era Sion AP, c'era Master E AP. C'erano delle robe tremende, ok? Quindi avete capito un po', ricapitolando il problema. Io spero che tolgano gli oggetti mitici, perché, non lo so, sono tantissimo forti, ovviamente, un oggetto mitico. Cioè, io dico, l'infinity è quella di adesso, solo che è un oggetto mitico e di conseguenza darà questo effetto in più. Però è uguale, non è che è più forte di quella di adesso. Cioè, rendetela più forte se è un mitico. Perché la rendiamo uguale? Allora fa la costare di meno se la rendi uguale a me è un mitico. No, è uguale. Invece la Yomu cambia, la Yomu diventa molto più forte. Cioè, scusatemi, perché la Yomu non è rimasta uguale e mai è diventato un mitico? No, la Yomu è diventata molto più forte. 60 di 18 letariti e 20 ability haste. Quanto dà adesso? 55, 18, 15. Quindi dà 5 ability haste in più. Benissimo, quindi sono già più le statistiche. Inoltre, 20% moment speed per 6 secondi. E ricarica 45. 25% per 6 secondi. Quindi già 5% in più. Poi è pure questa. Mentre ti muovi, fuori dai combattimenti, guadagni 50... Oggi guadagni fino a 50... Guadagni delle shard. Al massimo delle shard guadagni 50 moment speed. Ok? Ogni due shard è un moment speed in più. Quando sei al massimo guadagni altri da 10 a 20 letaliti. Cioè arrivi ad avere 38, 40 letaliti quasi. Con un oggetto. Appena fai danno, dopo 4 secondi, perdi le shard. Quindi è 4 secondi dopo che hai fatto danno per... Con questi 20 letaliti in più. Cioè 4 secondi con più danno e letaliti. Oltre al fatto che hai tutta quanta sta roba. Perché l'aiuomo è diventata così broken e l'infinity è rimasta la stessa? Perché? Capite? È questo che tipo... Mi chiedo, ma... Non lo so. Adesso vi ho detto la mia. Voi cosa ne pensate? Ditemelo davvero. Che cosa è successo? Perché era entrato Gattokurame? Senza che me ne fossi accorto a scrivere 5 segreti per un caffè perfetto. Ma che cazzo vuole sto Gattokurame? Vabbè, pazzo, furioso. Allora ragazzi. Piena di esplosioni? No, è piena di esplosioni? Sì, giochiamo Riven e Spoddy Build. E domanda. Come cazzo... Come mai? Cazzo? Diciamo la parola cazzo per enfatizzare le cose. Come mai? Cazzo. Non usa più nessuno Riven. Perché? Cos'è successo? Anni fa andava di moda. Anni fa tutti giocavano a Riven. Tutti volevano diventare bravi con Riven. Era tipo lo Yasuo del momento, no? C'era anche Yasuo, Zed, Riven. Erano i tre campioni considerati quei campioni skill. Cioè, se le stai usare, sei bravo. Quindi, sta roba qua. E adesso non la usa più nessuno. Sono passati gli anni. Che cazzo è successo? Perché Riven non la usa più nessuno? E quindi niente. Adesso la giochiamo con, ovviamente, un modo troll. Riven mi piace farla full CDR, dove hai l'espello ogni due secondi. Mi piace farla con il critico. E quindi, oggi e stasera, facciamo invece l'esplode build. Che, appunto, poi presto non si potrà più fare. Mi hanno messo jungle. Vabbè, giochiamo Riven jungle. Non è un problema. Io, guarda, io non mi faccio problemi. Ok? E io gioco quello che voglio giocare. Dove lo gioco? Non sono schizzinoso. Mi hanno dato giung... Io gioco jungla. Sono stato autofillato. Ma lo sapevamo. Chi me l'aveva detto? Piena di autofillare questa live. E infatti, giochiamo Riven jungla. E se qualcuno osa dire qualcosa, io arrivo a casa sua. E gli infino un pan... Cugino, oggi ho fatto la mia prima pente. Chi sei fiero di me? Jacopo. Se non è Catarina, sì. Con chi l'hai fatta? Cosa cazzo è successo? No, ho sbagliato. Ridami il pic. No, fra... Oh, oh. Perché io ho accettato? Pensavo... Oddio mio. Pensavo mi stessi cambiando di posto. Mi sono spaventato un po'. Un sacco. Volevo metterci di, vabbè. Io pensavo che stessimo scambiandoci il cos... Ma perché mi ha chiesto lo scambio, questo? Madonna, se mi fotteva. Era la finita. La prossima volta che succede io lo accetto e poi rimango. Non posso più. Così quella persona non lo farà mai più in vita sua. Vi immaginate? La prossima volta ci pensa due volte. Ma perché? Ha rischiato, eh? Ma anch'io ha rischiato. Abbiamo rischiato entrambi. Qui ci siamo cagati in mano. Credo you wanted the Riven. Invadiamo, 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 invadiamo. Da sotto, da sotto, da sotto. From Tree Bash. Blitz. It's safer. Okay, follow me. I invade every game. Eh, vaffanculo, non mi seguono. XD. Se ci fosse stato, lo grabava. Ha grabato il tank! It's not worth anymore. Ma piccolo picchiano me. Eh no. Io non ho vita, ragazzi. Andiamo. Buonasera, Mena. Finalmente Riven. Hai visto? Siamo Riven Jungle. Ben arrivata. Sono contento che sia arrivata subito, perché sennò te la saresti persa e sarebbe stato un problema. Quale landa ci sarà? Marino, infernale, montagna, camp, check, set, nuvola? Non si saprà. Votate alla bet. Blitz era in gas, tipo, ma che cazzo ci fai ancora qui? Allora, nostri giovani, mid con lo smite e malfight jungle con la cometa. Ma noi abbiamo Riven Jungle con l'esplode build, quindi tutto ha senso. Sarà di W, ho fatto bene? Cambia veramente poco. Cambia veramente poco, perché con una facciamo più danno, uccidiamo prima il mob, con l'altra prendiamo meno danno e basta. Uccidiamo prima il mob, comunque prendiamo meno danno, quindi. ok. Ma che cazzo succede nella loro squadra? Perché c'è l'Ulu? Allora hanno due jungler, quindi. Non sto capendo. Sto generale ha preso il red. Non è che hanno preso il mio di red? Scusate. La mia jungle è tutta qui, quindi che cazzo hanno fatto? Cosa hanno preso? Hanno gankato Tapping 2. Ripplogank, minchia, poverino. Credo si è trovato un pochino ferro e fuoco, paraccio. Ah, si arriva Malfight ed è solo. No, non è solo. Arrivano tutti voi adesso. Loro vengono a cercarmi, ma io lo so, me ne vado. A sapere che andavano top prendevo quello. Hanno fatto tutte e due le due jungle loro. Ok. Adesso stanno facendo la mia. Ok. Vado back subito, perché tanto, comunque si, loro non mi hanno preso questo, mi hanno preso questo. Qua non c'è niente, qua non c'è niente, loro andranno lì oppure gankeranno mid. Quindi pinghiamo. E via. Ah, su Riven penso che farò la... come si chiama? Essence River prima, invece della Drakhtar. Perché appunto abbiamo bisogno di più cooldown e di danno dopo le spell. Bisogna capire un attimo le loro intenzioni da adesso in avanti e giocare di anticipo. Altrimenti loro... Perché loro sono in DPU. Sono hanno due genre, quindi possono venire a rompermi il cazzo più facilmente. Quindi giochiamocela di anticipo. Quindi sto un po' concentrato, ragazzi, perché bisogna capire qua, bisogna capire. Però il game è interessante per questa meccanica nuova. Yana se l'è fatto 1v1. Non ho sbagliato tanto qua, perché si sono andati in... Sono andati da soli. Ovviamente quello l'hanno fatto, questa l'hanno fatto, va benissimo. Un nemico è stato ucciso. Raffino è arrivato, Malphite. Faccio anche Kled, Malphite muore. Questa strategia non è stata molto furba. Vieni verso di me, Fra. Eh, niente, è scappato. Peccato, volevo la kill. Va bene. Ci siamo fatti bene delle cose. La squadra è stata... è stata brava. Peccato. Non posso fare di più qui. Non posso fare di più anche perché arriva Rek'Sai. Speravo non arrivasse così presto, Malphite, sincero. Ma saperlo non invadevo e andavo direttamente a fare la mia giungla. 5 gold, questi ci pigliamo. Giovanni bot. Quindi qua può esserci solo Malphite. E... E quindi ok. L'unico problema loro è che hanno fatto una kill e un assist quindi sono un pochino più avanti di me per ora. Anche perché lui è comunque molto farm. Tutto questo ovviamente lasciano la mid molto scoperta. Infatti Chiana sta farmando senza problemi. Chiana anzi, sta andando in giro, trova Segioani che è sottolivellata e si è ucciso sotto di due livelli. Chiana ha fatto un'altra kill. Quindi a posto. Io però non posso venire dal drago adesso. Quello che non capisce la mia squadra è che adesso mi sta pingando d'aiuto quando in realtà io sono un jungler contro due. Quindi in realtà devo fare quello che riesco non posso aiutare gli altri. Sono un po' stupidini ma vabbè li sciottiamo per quello che sono. Sono bronzi. Quindi ok. Magari non tutti lo scopriremo chi non è il bronzo di questa partita ma vediamo. Dai, già una che mi gioca Chiana in bronzo potrebbe essere sbronza. Ora loro immagino che non ganchino niente. Io farmo un attimo tranquillo arrivo al 6 e magari è meglio. Io non posso andare a gankar tanto perché sennò loro mi vengono a fottermi la giungla. Dato che loro si devono dividere una giungla in due prendono una metà del farm e quindi per forza di cose devono venire a farmare da me. O farmano da me o gankano sottorivellati. Quindi io sto facendo la cosa giusta a farmare la giungla. Così li costringo a gankare e dato che sono sottorivellati perdono perché loro ovviamente non possono farmare di più di tre campi ogni 8 minuti. Io ho sbagliato un attimo all'inizio che non ho contestato i miei piccioni potevo tranquillamente farmeli e questa cosa ovviamente mi ha fatto perdere un attimo di livelli se no sarei già al 6 adesso. Ora sono proprio a un pizzico dal livello 6 Diana è in serio pericolo ma non è un problema Diana probabilmente morirà e sti cazzi io faccio il livello 6 perché hanno scelto di gankare e di non fare il red facendo il 6 mi si aprono più opportunità loro probabilmente adesso andranno dal drago adesso si fanno una plate ok la botta è morta quindi in realtà il drago non è molto una gran ok niente vediamo come succede botta ok la loro botta è morta quindi adesso c'è Malphite che fa il drago da solo sono il drago loro Ash non mi ha seguito per un cazzo gliel'ho scritto è arrivata adesso non mi ha cagato vabbè se vi fosse venuta subito ci ha messo 20 secondi per accorgersi del fatto che gliel'ho scritto avremmo ucciso anche se Giovanni avrebbe fatto il drago e avrebbe evitato la morte peccato ma va bene abbiamo assicurato il drago grazie al mio sacrificio quindi ok un jungler contro due ma il drago lo piglio io a posto ciao Neo grazie al follow ben arrivato e anche Miliodas grazie al follow a tutti buonasera Dan buonasera Gabri buonasera Felix buonasera Davide buonasera Black Shadow ciao ragazzi ciao Silver buonasera a tutti ragazzi ben arrivati sì sì Chiana palesemente smart va bene così va bene così la loro strategia del doppio jungler non ha funzionato stavolta quando vedete queste cose strane non andate nel panico cercate di ragionare di capire sempre che cosa potete fare a volte a volte i troll sono più efficaci delle cose normali dei pick normali perché prendono di sprovvista la gente che non sanno come reagire uno dice cazzo non so cosa fare tipo quella volta che avevamo la bot nemica che girava in giungla e mi invadeva tutto il tempo e la mia squadra ha voluto sorrendare quando era palesemente vinto il game anche con sciacco nemico con 5 kill 10 kill non so quante ne avesse era palesemente vinto il game perché perché loro non avevano una bot lane e quindi erano sottolivellati anche se avevano fatto tante decisioni in early game e quindi alla lunga avremmo vinto noi però la mia squadra ha messo 4 voti a favore io avevo votato null sul rend perché loro hanno visto subito una situazione brutta e spiacevole dicevano no no chissà cosa succede stiamo perdendo non erano abituati quindi mai spaventarsi i troll se usati bene vincono perché appunto vai a a colpire i nemici che non si aspettano certe cose però se tu sai giocarci bene contro vinci ancora più facilmente quindi quando vedete queste cose specialmente queste cose che sono molto troll ok perché loro hanno una persona in meno che farma mid non è guardato quindi mettiamaci qui ai ya mazzo niente rip troppo troppo grosso io non ho non ho più oggetti un lucky ho provato ad aiutare ad aiutare Kiana ah fa niente ieri sera ho visto il tuo video con lo asciaco che ha tiltato mi hai fatto morire da ridere come poche volte mi è capitato sono contento sono contento sono contento ben arrivato sì sì quello asciaco lì è stato pazzo furioso cioè una persona nei commenti mi ha pure esagerato ha pure osato dirmi tipo no tu facendo una cosa del genere hai sbagliato non fai una buona figura dicendo che volevi trollare il tuo compagno ma cazzo io che troll gli volevo fare poi ero sarcastico cioè oh gli rubo due piccioni ah ah che scherzone adesso lui per malosissimo se la prende eh no ha ragione lui che se l'è presa ma ma fanculo va bene prendersela magari poteva scrivermi oh ma che cazzo fai ed era quella la reazione magari che uno cercava voleva un attimo trollare un game dove era palesemente vinto eravamo 5 contro 4 e quella persona se l'è presa troppo cioè dai uno scherzo esageriamo veramente tanto va bene va bene piani non ci lascia assolutamente nulla non fa niente stima le detti hater di cui c'è una rap lo streamer le cercano tutte ma infatti cioè io non ho capito questo moralismo nei confronti di un giocatore che ha palesemente dimostrato una mentalità di merda noi ce la siamo presa a ridere perché perché è giusto così però era palese che quella persona fosse o molto permalosa o tiltata dai game precedenti perché reagire tintando in quel modo per due piccioni poi ho ricontrollato le play erano tre vabbè 24 gold no quanti sono 24 gold si è un po' da malati giocate a case buonasera una reazione del genere non aveva senso se io fossi stato costante nel nel darle fastidio cioè se l'avessi fatto più volte ripetutamente così a caso non aveva senso come se io ti lancio dei coriandoli per scherzare tu vabbè ti taglio il braccio pare pare sembra molto la pari rexai è pazza furiosa è rimasta lì senza vita con la torre anche senza vita io avevo pure la ulti non ho capito come mai adesso però visto lo scuro è uno o tre quindi io sono quello con più farm di tutti cioè stavolta sono farmato nonostante avesse due jungler contro che mi farmavano la giungla non sono riuscito a prendermi un cazzo purtroppo non sono riuscito a fare il drago lì perché erano due e allora ho preferito concentrarmi sulla top io ho già un sacco di gold comunque giro con troppi soldi in tasca se mi ammazzano cascano tutti me li prendono loro meglio non farsi uccidere in queste situazioni vero ragazzi se mi ha visto quello non lo so se mi ammazziamo mi faccio la draktar completa ma mi fa mi fa mi fa pensavo di no però effettivamente con 3000 gold in saccoccia non potevo affrontarlo lui aveva più oggetti di me ci ho sperato abbiamo bisogno di più danno ora con questi oggetti nuovi me la faccio io tanti auguri a tutte le mamme grazie Willy Lorvo degli auguri e auguri a tutte le mamme ragazzi di tutti quanti per tornare a giocare dopo un mese oggi è veramente la festa della mamma non ci hanno trollato cioè se vi ha trollato la vostra mamma adesso si parla che si vuole far tornare l'8 maggio dal prossimo anno ho sentito dire ma io non ho capito perché tutte ste discussioni riguardo alla festa della mamma ogni giorno è la festa di qualcosa uno non può stare tranquillo un attimo cosa farai per questa festa cosa farai per questa festa cosa farai per la giornata mondiale della felicità cosa farai per la giornata mondiale dei porcospini cosa farai per la giornata mondiale degli intim di merda mamma mia Sifra è arrivata Riven go quit the game let you so useless learn to play this game ma chi cazzo pink Ash non mi aiuta mai cioè lì che mi guarda mentre quello mi attacca ok grazie Ash stava scappando via lei allora ok abbiamo la nostra essence river andiamo con con l'infinity stai provando gli item nuovi come puoi palesemente vedere dagli oggetti che sto usando sono quelli attuali non nuovi non li posso provare gli item nuovi finché non li mettono quando li mettono li proverò li posso provare su PBE però il PBE mi fa cagare quindi no domani una festa mondiale a caccia e pepe pensate tutti i giorni una festa di cucina ma a volte ci saranno giornate mondiale di questo e anche di questo oddio è perché ci sono tante cose nel mondo più di 365 quindi ecco e ciao belli esplosi è arrivata Riven con un po' di critico porca puttana quanto esplosa bene questa botlane twitch lulu assaggiati non è la giornata mondiale delle esplosioni rappoggi anche il mio onomasico vedi oggi già la giornata di due cose troppe cioè stiamo esagerando io non posso ricordarmi tutti i giorni due cose diverse sì sì lo usiamo subito mamma ci scamma mamma è bravissima e si cambia troppo per 5 secondi e mi giro no la ulti di lul no vabbè peccato se lo montavano ammazzava va bene comunque abbiamo preso un fottio di oro ho già tre oggetti adesso ragazzi io ero quello più bad di tutti perché ero quello più indietro con questa azione bot che ho fatto queste doppie kill sulla loro bot tra in più le torri adesso ho tre item più scarpe sono più avanti di kiana che ha 10 kill e ha tre item e ancora non le scarpe complete gli unici contro cui ho problemi sono sejuan e malfight perché hanno armor 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 sono gli unici attenzione ai fight contro sejuan che ha tanti cc e ci dà fastidio quindi perché non prendere un drago anti cc come questo della tenacia capita a fagiolo oh si c'è pennello boh andiamolo a fare cugino cosa ne pensi dei jacks main che sono molto fortunati perché hanno un campione su cui puoi buildare qualunque cosa e ti divertirai sempre che ci facciamo qui ciao addio come scusa sono vivo davvero che culo madonna ok questa è stata una bella sculata ragazzi questa si che è stata una sculata vieni qua vieni qua tesorino vieni qua che ti apro va bene va bene non viene probabilmente fanno il drago e non lo contestiamo manco quello farmiamo tanta giungla ora che possiamo ho fatto un po' di roba noi prendiamo i prossimi senza rancore no problem allora altro critico ci serve facciamoci questo perché hanno troppi tank e vogliamo penetrare un po' questa 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 sejuani quindi andiamo con questo poi vediamo di fare il lord dominic probabilmente ciao zyko minchia che danni li ho fatto i danni li ho fatti tutti io però la kill ha presa quell'altro che io faccio questi danni da 1500 non sono pochi ecco però il last hit l'ha presi lui si penetra si penetra bravo blitz hai scelto la persona giusta thank you blitz hai scelto la persona giusta ti ringrazio anche guarda qua che roba poi sono a livello 15 sono quello più alto della squadra hai due a lot of damage toccatina 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 boom baby pure pentaki l'incredibile gg thank you blitz è tutto grazie a te ma ma che cazzo è successo ragazzi è entrata nella partita è entrata bene la penta si fa si balla intanto facciamo il baron ma io sto qui a ballare perché si festeggia cazzo primo game della serata subito pentakill tutto grazie a blitz e al suo zec anche se è morto non importa ci ha dato proprio effetto placebo ci ha resi forti e g e partiamo bene allegria ragazzi si festeggia molto bene la pentakill solo la trovate su spotify punto esclamativo spotify benvenuti in questo nuovo video sono kugirapplo streamer e vi do un caloroso benvenuto in questo in questo troll pick con riven esplodivide che non si può più fare quando uscirà il video su youtube ciao amici del tubo come sempre non si potrà più fare però vabbè comunque sia troveremo altri modi per fare pentakill con riven ed esploderli tutti bel pick finalmente l'abbiamo fatta mena sarà contenta altro che il sesso allora cosa prendiamo adesso facciamoci questo che ne so un po' di life steal non fa male ma si prendiamoci questo hai visto mamma mia allora si gode nice riven op hai visto blitzcrank ha scelto la persona giusta ogni volta che gioco il pick di mena faccio pentakill l'altra volta kalista please pentakill ma rifacciamola oh ma l'ho one shot attacco all'attacco base troppi cc ragazzi troppi cc a lot of stuns troppi cc ma quella red size ha perso 1200 vita in un colpo gli arrivano sti sti pugnalati ah cioè avete visto come esplosa come esplosa quella quella lulupazza vabbè sentite ragazzi rivediamo la penta buona visione toccatina 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 boom baby pure pentakill la cosa bella è che c'era con l'ash che stava cercando di rubarla notato adesso cioè abbiamo rischiato di perdere la pentakill perché era rimasta quella pittancosa con tanta armor e ash era lì perché faceva tanti attacchi vasi per fortuna minchia non è riuscita però se l'avesse presa lei probabilmente lanciavo la sedia sullo schermo ciao t-rix grazie al follow benvenuto ok non so se cazzo ho visto 4 minion ranged invece di 3 ho detto c'è nico ormai quando vedo un minion in più dico sempre che cazzo succede però purtroppo la top lane non è messa a pushare quindi vediamo che fare però se riusciamo a uccidere qualcuno di questi pazzi ora la mid sta pushando per noi mancano due persone di là come mai ah eccole troppi cc non posso più muovermi dopo che mi stunna dovrei prendermi probabilmente questo perché non riesco davvero a muovermi mi stunna seggioani o malfight e io non mi muovo più vedete la potenza degli stun tu per quanto puoi essere forte se contro hai gli stun è difficile motivo per cui consiglio sempre a tutti di usare campioni che stunnano tanto se non sapete giocare no non è che fate schifo no però comunque si sono consigliati lo stesso in ogni caso perché sono campioni che sono sempre forti volete salire facile prima della fine dello split cazzo prendetevi un bel malfight una bella stagione una bella leona tirate dritto con gli stunn oppure prendete un campione forte e semplice come Warwick non abbiate paura nessuno vi giudicherà un alleato ciao cugino su youtube da un po' sono venuto qui a fare un saluto ben arrivato allora hai scelto bene sono proprio sono proprio io cugino rappro streamer quello del tubo non cugino rappro youtuber non confondete difidate dalle mutazioni non penso che esista qualcuno che si spaccia per cugino rappro youtuber meno male chianna forse voleva aiutarmi in realtà però non voleva morire allo stesso tempo io prendo questo però in realtà non ho un lifesteal se lo prendo e un po' mi da fastidio questa cosa aspetto 200 gold e prendo quello magari lo scudo che mi darà la BT mi aiuterà un pochino questo 400 di scudo in più se non muoio subito questo 400 di scudo fa comodo e anche in tema con la BT perché praticamente aumento la mia vita senza aumentare la mia vita e quindi faccio comunque i danni alle cose come il mio amico Giuseppe che praticamente lui era il migliore nel fare le cose nel mondo proprio Giuseppe sapeva fare tutte le cose qua c'è la loro world andiamo back appena torno prossimo oggetto come ultimo oggetto prendiamo la Lord Dominic così abbiamo un po' di armor che alla fine loro non fanno tanto danno cioè lei fa principalmente Malphite lei è full tank quindi no tra loro due Malphite quello fa più danno ma possiamo resistere Twitch che riesce a spararmi tutto il tempo mentre sono stornato quello invece è brutto quindi prendiamoci Lord Dominic e via il tuo team non sta più farmando il mio team non fa un cazzo non lo so Kiana sembrava brava invece mi devo ricredere è stata fortunata all'inizio sembrava forte al solito Kiana si vede all'inizio si sono forti invece è stata molto fortunata e basta non so cosa cazzo stia succedendo qua io non ho capito come sia possibile tutta la mia squadra è morta e se Giovanni e Malphite avevano ancora la ultimate appena mi ha visto Malphite ha fatto R e se Giovanni R subito dopo questo significa che tutta la mia squadra è morta senza che loro abbiano avuto bisogno di usare la ultima io ho detto vabbè sono morti in due stanno per morire il terzo avranno già usato le ultime mi lancio no 3 secondi di stun su 3,54 avrei fatto bene a comprare questo ma tu non te le aspetti queste cose tu dici cazzo morti tutti andiamo no non è possibile bravissimi sti due come per me da fare il doppio jungler ma non è tanto quello che hanno fatto perché quello è stato secondo me sbagliato non sono riusciti a prendere molto battaggio in quel modo adesso stanno iniziando a giocare bene perché la mia squadra sta giocando male e loro sono molto più coordinati io sono l'unico forte loro lo hanno capito si tengono le ulti per me coordinate io non posso giocare anche per quanto io possa essere bravo se loro hanno due stun coordinati in questo modo io non posso farci niente la ulti di Malphite non te la puoi togliere in nessun modo la ulti di se Giovanni me la posso togliere con questo però comunque sia faccio fatica lo stesso perché anche se me li tolgo mi arrivano dei discreti danni perché sono delle ulti Malphite full AP tu non puoi grabbarmi quelli però ti do ok aspetta Malphite ha ultato adesso l'ho sentita la ulti ma ci muore ci muore ma che danni cazzo per poco va bene ci abbiamo fatta ci abbiamo fatta mochiana muore dai minion ma perché sei coglione perché attacchi i minion mamma mia doppio ace ok perché sic bello grazie dei tre mesi anche tu hai scelto lo streamer giusto sono io che ho giornato lo streamer bentornato grazie dei tre mesi ciao ciao imamu grazie mille del follow benvenuti che disastro questa partita stavo avendo una brutta giornata ma poi è successo questo this game is really funny questa partita è molto divertente ma forse si dice fun non funny però comunque se perdessimo questo ci aiuterebbe più scudo più tenacia proprio quello che mi serve per la loro squadra il problema è che non riusciamo ad avvicinarci ciao cugino è la prima volta che ti vedo mi sembri uno in gamba ma tu sei il famoso cugino rap lo streamer sei il numero più conditore bentornato con i tuoi 18 mesi benvenuto mi è arrivato per la tua prima volta qui sul mio canale 18 mesi sempre la prima volta forse sei un po' smemorato ma ti aiuterò a rielaborare le idee molto soon poi clad muore io vedete ragazzi questo è l'errore che stanno tolti io non posso muovermi contro di loro ma potrei anche prendere l'altro oggetto ma non posso proprio hanno il doppio full clore dei geli che riduce la velocità d'attacco più mal fight per me io non posso più attaccare ragazzi hanno una squadra è devastante questa loro combinazione non posso fare proprio niente sono veramente grossissimi e tankosissimi sono sono on fire questi due non posso farci nulla dovrei comprare resistenza magica ma ma cosa fai? compri resistenza magica per loro ti fai sciogliere da twitch e rexai non so possiamo provare questo non sarebbe male ma anche questo è ok facciamoci questo e vediamo se migliora un po' la situazione mi mancano giusto 150 gold ovviamente mettiamo null sul rend io ci credo la mia squadra può scalare dai vero? kiana purtroppo è totalmente inutile contro questi due e anche ash sembra non andare molto bene ash dovrebbe comprare anche lei qualcosa a riguardo veramente vanno a fare il baron loro ora mi compro l'oggetto e vado dal drago questo forse un po' mi aiuta allora kiana dai cazzo sei forte hai preso tutto quello che potevi early game ora ammazzami ammazzami twitch loro fanno il bar noi facciamo questo facciamolo subito carabolo 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 fra mazzo tutti la redenzione di riven maffanculo cazzo esplosi ho focussato i target giusti ho comprato gli item giusti ed eccoci qua ragazzi non ho niente da comprare solo la pozzetta non ci facciamo facciamoci 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 questo facciamoci questo facciamoci facciamoci questo start fast ok io vengo aiutami aiutami red sei pazzo però hai appena preso il baron vai a morire no ragazzi no no mi ammazzano ma il fight è perfetto ok vinciamo anche questo fight allora no 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 Hold the door, hold the door, door Merda Va bene, non avevo più la terza Porca puttana ragazzi, che cosa stiamo combinando Porca draga gay Va bene, presi due inibitori Abbiamo preso il drago, abbiamo preso il bar Con il drago ci dovranno un po' meno i cc Se riusciamo a prenderne altre 3 sono altri 6, 6, 6 Quindi sono un 18% Di in meno Quindi si sta Ciao cugino mi consigli un team troll per il clash Certo che ne consiglio uno Ti consiglio il Come cazzo si chiama coso Mi piace? Grazie ai 100 bits No, il team degli sniper e il team dei tank Sono i più forti Il team dei tank, cazzo, cioè 5 tank A un certo punto vincete per forza Non buildati come li abbiamo buildati noi Però li buildati seri Quindi tutti con l'hardsteel Poi titanica E Sugli appeal Nemonik La mia squadra ora vince senza di me Avevano solo bisogno di trovare la forza Avevano solo bisogno di credere in se stessi La forza già ce l'avevano Il cugino gliel'ha portata C'è un nemico qui Non stai usando lo smite Per forza ero morto Non potevo Potevo usare niente Ero cadavere 2100 di critico sì Esplodi build ragazzi Benvenuti Nella new era O meglio nell'era vecchia Questa era l'era dell'esplodi build Ok adesso cambiano tutti gli oggetti Quindi sarà difficile rifare la stessa identità Che cosa Pensate se avessi avuto la R Cioè con la R che mi fornisce Quanto mi fornisce? 107 di AD in più Praticamente quel critico Da 2000 diventa tipo quasi un 3000 Di sicuro oltre 2005 Ora facciamo il drago Passed the rake Addios Eh loro sono due però Possono smitarmelo in due Buono è arrivata Chiana Ho resistito abbastanza Ora dovrebbe vincere lei C'è Twitch vivo eh Twitch non può deve difendere Twitch deve difendere la base La tua squadra ha distrutto una torre Lei se l'ammazza quella? Drake Do it Twitch is base He has to death Dai Fallo tra Fallo 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 Tenacity Vai cazzo si ascoltano pure Potresti dirmi la combo di Riven No Ce ne sono 10.000 diverse di combo Dipende dalla situazione Fallo fallo Do it Don't be scared Perché non lo fa? Cos'è la cosa più stupida che abbia mai visto Tutti morti Ho paura Twitch è alla base Ora rischiamo davvero che lo prendano Ok non è arrivato Kled La gente ha paura di fare i draghi da soli Non so come mai C'è questo fear Questa Questa fobia Ragazzi dovete prendervi proprio le palle E dire io ho le palle di farmi il drago da solo Fatevelo cazzo Cioè perché avete paura di avere il potere Di fare le cose Non dovete avere paura di avere il potere Cioè Nessuno Non siete nessuno per non avere Il potere di fare le cose Dai La gente ha paura di Di responsabilità I don't know di cosa hanno paura Ok Lule è morta Io sono qui che cerco altri bersagli fragili Tipo Tipo Twitch Eccolo lì Twitch Cazzo figa Merda Culo Merda questo Giovanni di merda Sempre addosso Ce l'ho Ok Però vinciamo Vinciamo perché adesso Kled è Dai adesso Giovanni non può vincere È full tank È full armor Dai non può vincere Non ha neanche un oggetto che gli dà statistiche offensive Zero e 134 in grigio Un po' far più danno di Kled Vabbè adesso è arrivata Rek'Sai Vedete focus Fanno bene ragazzi Se non fanno questo perdono subito Se non fosse così avrebbero già perso da un pezzo Siamo 74-75 Cioè è super bilanciata nonostante tutte le kill che ci sono Letteralmente si fa questa kill Sono 150 uccisioni E Ecco 150 uccisioni 75 per squadra Strabilanciata Non ho mai visto una roba del genere Dai li fastidio Dai li fastidio Lo stermini Eh non così Ok però lo stermi Brava Farma tu Farma tu Io sono full build Farmate voi Ma fatti un Sunder Reprise E dov'è il librido del troll È il brivido del librido E poi con questa build one shotiamo letteralmente Twitch e Lulo Esplodi build tesoro Ammetti di giocare serio Inizia a trollare Come il cugino Finalmente la rita ha bilanciato qualcosa Sì adesso cambiano tutti gli oggetti del gioco Così non sarà più bilanciato Meglio Ci siamo rotti di vedere partite bilanciate Vediamo quanto saranno sbilanciati i nuovi item invece Bisogna che guardia Bisogna che guardia Tesoro Niente Troppo tardi Zack Guarda qua 1900 di danno critico Su Twitch Ora sono due morti Noi siamo 5 vivi 5v3 Let's win Guardate quante Dove cazzo siete Dove siete andati 5 contro 3 Questo fa i lupi Questa ricolla Ma che cosa hanno fatto Glielo ho pure scritto Mentre camminavo Più di così Ma che cazzo devo fare ragazzi Ma vi date una svegliata Meritano di perdere assolutamente questi ragazzi Cioè 5 contro 3 Loro si girano su di me Mi fanno 3 ulti Mi ha ultato rexai Mi ha ultato malfatti Mi ha ultato seggioani Tutti e tre contemporaneamente Appena io mi sono ingaggiato su di loro Nessuno dei miei compagni Stava facendo nulla Erano tutti Via 5v3 Mi sono ritornato in 1v3 Sono morto Hanno sceso gli altri 5v3 Fixiamo subito Perdiamo Peccato per quest'ultima Per quest'ultimo Cioè Non so Follow up dei miei GGVP Follow up dei miei compagni All'ultimo veramente terribile Riven diff Assolutamente sì Meno male che c'era Riven Se no il game era una merda Ci stava l'errore per sbilanciare Va bene Peccato Peccato Per la bellissima partita fino a lì Blitzcrank troppo mentalità negativa Nonostante mi ha aiutato Kled non si capisce Onorerei Ash Ash Nell'ultimo fight Ash è l'unica che mi ha seguito Anche se era quella che doveva stare più dietro di tutti Più tranquilla Perché lei è stata Ah era una normal Pensavo fosse una ranked Era una normal Pensavo di aver statato ranked Vabbè Fa niente Ehm 84 mila danni S meno presa Vabbè Peccato Cioè Questa era una normal Pensate quant'era intensa Ok poi dite Ah no Le ranked solo No no Guardate Questa era una normal Cazzo Cazzo Dopo la penta No è stata una bellissima partita Yeah Thanks You all Uppi Peccato per l'ultimo della squadra Adesso capisco forse perché Blitz voleva sorrendare Così facile Senza dargli peso perché non era ranked Questo per dimostrare come non cambi nulla da ranked a normal Esatto non cambia assolutamente nulla Cioè io pensavo di essere in ranked Da come tutti stavano giocando E ci ho messo la stessa intensità che ci metto nelle ranked Nessuno di noi pensava che fosse una normal Fino ad adesso Cioè pensate un attimo E cosa ha cambiato? Niente Tutti quanti si stavano impegnando nella partita Come al solito c'era chi invece non si impegnava Che diceva FF Ma cosa succede anche in ranked Qui non cambia assolutamente niente Le persone sempre quelle sono Anzi è stato molto figo questa partita Perché di là c'è stato un bel troll Un duo jungle Che Non hanno saputo bene gestire all'inizio Però poi dopo Avevano due champion che letteralmente non mi facevano muovere Sono stati Questa è una combo molto bella eh Da fare in low elo Se avete un amico con cui giocare ranked Giocate due champion del genere Malfight Giovanni Full cc Se c'è uno smarf contro Lo massacrate Cioè io letteralmente non ho potuto muovere Mi sono potuto muovere Io dovevo ingaggiare per forza con la mia squadra Non potevo fare l'1v9 pazzo Nonostante l'ultimo ci ha provato magari Ho detto vabbè c'è tutto il mio team vivo 5v3 Venite No Chiana è recolata L'altro si è messo a fare i lupi A caso E quindi ci siamo ritrovati Mi sono ritrovati in mezzo a tre persone C'era Ash che faceva un po' di danno Ma poco Non poteva fare più di tanto Una bella ulti di Chiana lì su tutti quanti Era Era easy Però bellissima partita Anche nonostante la sconfitta Mi sono divertito Ho giocato bene Quindi Soddisfatto Spero anche voi Siete stati soddisfatti Di aver visto sto game Fantastico Ok Ora cosa ci giochiamo ragazzi Che cosa ci giochiamo Che troll pick ci facciamo Troll pick in iron avevo scritto Ma invece eravamo in normal Come vedete il normal Non hanno un elo Qua la gente Non so che cazzo di elo fossero Ma non penso che sia importante Anzi Divertente così Eeeh Vediamo per esempio l'elo di Di Sejuani Sejuani era gold 4 E poi mi dite Noi abbiamo tutto solo con gli iron Questo era gold Abbiamo fatto l'esplodibild Contro un gold E contro uno Livello 26 Palese smarf Quindi probabilmente anche lui Sarà stato gold o qualcosa di simile Forse anche di più Non possiamo saperlo Però era premete con il gold Questo è un classificato Livello 28 Quindi anche lui Palese Palesemente smarf Perché Un rex i con fatto 21 16 A livello 28 O rex i Insomma Eeeh Questo era Era vero però Non si sa Qual è il suo vero rank Non Non ranka E lulu Pure Anche lei non ranka Livello 25 Forse erano tutti per maiden Tutti Alcuni erano livello 25 Beh lulu si vedeva che era scarsina Però gli altri erano bravi Vediamo la mia A kiana Mekliana era platino 4 Cioè Per farvi capire Io pensavo che fosse smarf Perché giocava bene Invece no Non era smarf Era solo account principale Perché Ed era platino E noi abbiamo fatto un troll pick All'elo Tra elo gold e plat Non per Non per dire Ok Eh Era platino E ha giocato Da cani Cioè stavo carriendo io Ha fatto Guardate Cioè Ha fatto bene Però A un certo punto poi Non stava più facendo bene Inizia da avere partita bene Classico platino player Insomma Questo qua era bronzo 1 Si vedeva Non era Super sveglio Vediamo Vediamo questo Questo silver 1 E questa tizia Non si sa Flex silver 4 Con una sola partita Quindi Non conta Vedi tanto Sicuramente era scarsina Rivelo 40 Non sapeva fare molto Però seguiva Questo era platino Questo era gold Questi erano due smurf Probabilmente premade Sicuramente Malfight era premade Perché avevano doppio smite Facevano doppia giungla Quindi anche lui mi aspetta Un gold platte Insomma ragazzi Direi che È stata una signora partita Alla faccia di chi mi dice Eh ma tu Sei giusto forte Solo quando giochi in iron Eh A favore E' i a E' Grazie a tutti.